ciao amico e bentornato in questo mio nuovo video per molti bambini i parco giochi sono luoghi dove ogni bambino può giocare divertirsi in alcuni luoghi questi posti di divertimento possono diventare di notte soprattutto a una certa ora luoghi dove possono manifestarsi dei fenomeni paranormali i video di oggi mostrano alcune attività paranormali riprese e documentate in questi parco giochi che vengono considerati da molti come i più infestati prima di cominciare voglio ricordarti di iscriverti al canale cliccare sulla campanellina delle notifiche questo per non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo un uomo sta tornando a casa sua dopo uno stressante turno di notte sul posto di lavoro l'uomo stava percorrendo una strada dove proprio lì vicino si trovava un parco giochi arrivato presso a questo parco giochi l'uomo notò una strana creatura situata sul tettuccio di uno scivolo del parco giochi prontamente l'uomo prende la telecamera e tenta di riprendere quello strano essere l'uomo riesce a riprendere quella strana creatura allo stesso tempo la creatura sembra accorgersi della presenza di quell'uomo dopo di ciò si gira fa un salto e fugge via in base alle immagini la strana creatura è stata catalogata come il reik il reik è un mostro delle sembianze umane definito da molti come pericoloso ronda e line stati uniti nel luglio 2016 un uomo stava portando i suoi figli ad un parco giochi arrivato al parco giochi l'uomo nota una delle altaline che sembra muoversi da solo come se ci fosse qualcuno la cosa più strana ed inquietante e che sembra che l'altalina alcune volte sembra accelerare ancora di più il passo una coppia porta i propri figli in un parco giochi per divertirsi ad un certo punto incominciano a riprendere i propri figli con una telecamera ed una delle figlie sale sulla torretta dello scivolo mentre uno dei genitori riprendeva la figlia non si accorge che oltre a riprendere la propria figlia ha ripreso qualcosa di veramente inquietante dalla torretta dello scivolo sembra esserci un'altra bambina che viene ripresa cosa praticamente impossibile anche perché gli unici a essere in quel parco giochi era quella coppia con i loro figli un cacciatore di fantasmi si reca in un parco giochi dove girano voci su strane presenze che si manifesterebbero a una certa ora della notte in questo parco giochi all'inizio non viene notato nulla di strano niente di particolare finché ad un certo punto inquadrano un'altalina che incomincia a muoversi da sola dopo un po di tempo si incominciano a sentire dei rumori strani col passare del tempo poi non succede più nulla e il cacciatore di fantasmi decide di andarsene non appena il cacciatore di fantasmi oltrepassa la piccola cancellata la stessa viene aperta all'improvviso da una forza invisibile sembrerebbe che l'entità di quel posto stesse dicendo al cacciatore di fantasmi di andare via le segnalazioni di questo tipo ce ne sono tante e succedono quasi in tutto il mondo potrebbero essere anche spiriti di bambini che in vita frequentavano quei luoghi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste storie il video finisce qui ragazzi e noi come al solito ci rivediamo alla prossima ciao 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 Grazie per aver guardato il video.